Anticipazioni sesta puntata della fiction Braccialetti Rossi 3, in onda su Rai 1 domenica 20 novembre 2016 in prima serata. Per Flam è giunto il momento della verità e bisogna togliere le bende. Il medico e i genitori risultano fiduciosi, ma la bambina ha uno strano presentimento e li ferma, preferisce aspettare ancora. Dopo la strana telefonata alla radio, Leo si sente pronto per affrontare il padre e conoscere la verità, quindi lo chiama in ospedale per parlare. Nina telefona ai genitori e riesce a dire loro quanto li ama. Intanto Chris decide di fare un ultimo bagno ma si sente male e rischia di annegare.